e buongiorno a voi le ballerine e i ballerini e benvenuti in questo nuovo tutorial io sono Juan Carlos e vorrei occuparmi oggi con voi di una nuova danza qui sotto in descrizione ci sono tutti i collegamenti che vi servono il clip è sottotitolato e potete seguirmi nella vostra lingua e da ultimo non manca il timestamp per andare dalla didattica alla danza oppure dalla danza tornare in didattica ed ora sigla e a ballare! Care amiche e cari amici la danza che vogliamo imparare oggi è molto semplice si chiama Critico Sirtos a Imola l'abbiamo ballata per vent'anni tante volte che nella sala se accostavamo l'orecchio al muro sentivamo per fortuna quest'oggi è molto semplice è una danza che ha un modulo unico vediamo siamo sul cerchio chiuso a W oppure aperto se c'è un leader al traino e si tratta di questo qui facciamo la reazione facciamo questo incrocio dietro e poi con il destro al centro due passi di polca un balance a destra, un balance a sinistra e torneremo indietro con quattro passi liberando sempre il destro visto che è una danza del piede destro allora contiamolo 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 balance destra, balance sinistra, indietro con il destro 1 2 3 4 abbiamo il destro libero e ripetiamo questa sequenza un numero indefinito di volte come lo dice la musica quindi oggi meno male la spiegazione è molto breve andiamo a ballare Critico Sirtos Sì 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 Una mera xanà se me n'athatis e non mi to ti mi dì Una mera xanà se me n'athatis, tò spalma sù o'tan thà dì Se zicòθηκες na figgis, ma s' athinò για na dì I ca t'anbià sù c'a thà nè, για ti ròdi nì, dè nè, oly d'ròmi di zòì I ca t'anbià sù c'a thà nè, για ti ròdi nì, dè nè, oly d'ròmi di zòì Una mera xanà se me n'athatis e non mi to ti mi dì Una mera xanà se me n'athatis, tò spalma sù o'tan thà dì I ca t'anbià sù c'a n'athatis, tò spalma sù c'a n'athatis e non mi to ti mi dì I ca t'anbià sù c'a n'athatis, tò spalma sù c'a n'athatis e non mi to ti mi dì Critico Sirtos, facile no? Bye bye! Et voilà, questa era la nuova danza, grazie sempre per la vostra cortese e attenzione Magari potreste iscrivervi al canale, lasciare un like, chissà I vostri commenti qui sotto e al prossimo tutorial, ciao! Ciao!